Secondo il monitoraggio di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute, l'epidemia da Covid-19 sta peggiorando e tutta Italia sarebbe compatibile con lo scenario classificato con il numero 3, ma la velocità di trasmissione del virus è compatibile con uno scenario 4. Emerge un'alta probabilità di raggiungere un rischio alto nelle prossime settimane. Si conferma pertanto una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sull'intero territorio con criticità ormai evidente, evidenziano gli esperti. È essenziale rafforzare le misure di mitigazione in tutte le regioni, secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Continua ad aumentare il numero di casi non riconducibili a catene di trasmissione note, che supera l'80% dei nuovi casi segnalati in alcune regioni.